ciao da eva quella che vedete qui con me oggi è la macchina da caffè e cam 231 25 b della delonghi la struttura principalmente in plastica in colore nero con dei dettagli in alluminio argentato i materiali sembrano discreti al tatto e la macchina è un bel po pesante sono 9 kg con il serbatoio vuoto è alta 35 centimetri larga 23 centimetri e profonda 43 centimetri la tannica dell'acqua rimovibile ha una capacità di 1,8 litri ed è posta non sul retro ma sul lato destro della macchina dovete sapere che questa macchinetta da caffè ha la possibilità di macinare i chicchi prima della preparazione della bevanda i chicchi vanno messi in un contenitore dalla capacità di 250 grammi posto sul retro della macchina qui c'è anche una rotella che vi permette di regolare lo spessore che deve avere la polvere macinata così potrete personalizzare secondo il vostro gusto sul retro è anche presente un serbatoio per il caffè macinato infatti non dovrete più cambiare ogni volta il caffè consumato ma vi basterà ricordarvi di caricare il caffè in polvere di tanto in tanto attraverso un pulsante potrete in tutta semplicità decidere se utilizzare il caffè macinato oppure i chicchi per il caffè consumato vi è un capiente contenitore nella parte inferiore che potrete estrarre e svuotare facilmente questa macchina da caffè vi dà la possibilità di selezionare diverse tipologie di erogazione espresso caffè doppio due tazzine di espresso due tazzine di caffè doppio acqua calda e il pulsante per l'erogazione manuale con il montalatte regolabile potrete schiumare facilmente il latte oppure riscaldarlo velocemente aggiungendo del vapore caldo dato che le tazze da cappuccino sono solitamente più grandi è possibile regolare l'altezza dell'erogatore che può variare tra un'altezza di 86 mm e 142 mm dal lato della manutenzione vi farà piacere sapere che questa macchinetta del caffè è dotata di un sistema anti incrostazione ed ha incluso nella confezione un filtro di ricambio che è facilmente montabile inoltre è dotata di molte comode funzionalità si spegne automaticamente dopo qualche minuto di utilizzo avvia dei programmi automatici di risciacquo e mantiene la temperatura dell'acqua sempre costante se siete amanti del caffè volete regalarvi la ecam 231 25b della delonghi o semplicemente state cercando un'altra macchinetta da caffè andate su bpmpower.com cliccando sul link riportato in basso in descrizione mi raccomando supportate il nostro lavoro mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale youtube e se vi va lasciateci anche un commento ciao e al prossimo video